Ciao a tutti, oggi torno a parlarvi dell'azienda Lighting Gever. Vi parlo di questo prodotto molto utile in queste feste, visto che ancora siamo sotto le feste natalizie, ma non è detto solo per le feste, a volte possiamo anche organizzare una festa con gli amici a casa e per creare un'atmosfera particolare utilizzare questa striscia luminosa a led. Si tratta di strisce luminose a luce bianca calda di 5 metri, possiamo trovare all'interno di questo cartone la striscia, come vedete, avvolta in una bobbina come se fosse la pellicola di un film, poi c'è il cavetto per aiutarci ad accenderle e due connettori che serviranno quindi per allungare la striscia oppure tagliarla in base alle misure che vogliamo e ricongiungerla quando ne avremo bisogno che sia più lunga, di nuovo quindi di 5 metri. In più troviamo il libretto di istruzioni in cui ci fanno vedere appunto come possiamo, ci sono anche le immagini, quindi ci fanno vedere come possiamo tagliarla e ricongiungerla per il nostro utilizzo. In più abbiamo il cavetto che ci aiuterà quindi a collegarlo alla presa di corrente e l'adattatore, quindi vediamo un po' il suo utilizzo. Innanzitutto andremo a caricare dunque il cavetto, lo inseriamo nella presa di corrente, congiungiamo all'adattatore, ok fatto, come vedete si accende anche la lucetta che ci permette di capire che c'è elettricità. Congiungiamo il tutto alla bobbina, come vedete la luce è molto molto bella, molto luminosa, una luce bianca calda, quindi molto bella, è molto sottile e quindi può essere diciamo manovrata come vogliamo, ha il biadesivo nella parte posteriore, adesso spengo così vi faccio vedere capire meglio. Nella parte posteriore c'è un bioadesivo che ci permette quindi di poterla attaccare non so vicino a una scrivania, vicino a un mobile, insomma ovunque ci piaccia. È molto sottile, quindi molto molto morbida e flessibile in modo che possiamo anche attaccarla negli angoli senza avere problemi che si stacchi. Quindi un buon prodotto a un prezzo conveniente. Vi ripeto l'azienda è la Light & Gather. Ci vediamo alla prossima con un nuovo prodotto. Ciao!